Un bel giorno, Adam il contadino decide di perdersi nel bosco. Incontra Lupo, fanno amicizia. Adam convince Lupo a dimenticare Cappuccetto Rosso e la nonna. Iniziano insieme, nel mito di un grande viaggio, un'avventura meravigliosa attraverso i sentieri più audaci della conoscenza. Scopriranno luoghi misteriosi, nuove soglie, mondi nuovi. Attraverseranno paurosi nemici interiori alla ricerca dei saggi, come personaggi semi-immaginari apparsi su una vecchia mappa del tesoro, nel tempo del sogno. Conversando di metafisica, di racconti sacri, fiabe, poesia, di geografie reali ed immaginarie, si ritroveranno così, scoperta dopo scoperta, fuori dal bosco. Che sia solo l'isola che non c'è, oppure un intero continente ancora inesplorato. Vieni a scoprirlo insieme a noi? 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 Vieni a scopprirlo insieme a noi? Vieni a scoprirlo insieme a noi?